Il suo spettato si è recato sul luogo di lavoro, come al solito. Ha attraversato la città a piedi, seguendo lo stesso percorso degli altri giorni. È arrivato all'edificio verso le 8 e 10, ma è entrato nel suo ufficio solo alle 8 e 40. In questo intervallo di tempo ha sostato in una sala riunioni, dove ha effettuato una chiamata e ne ha ricevuto un'altra. Sullo stesso telefono, allo stesso tempo. Due numeri di telefono o uno stesso apparecchio. Droid Duo DNGM, il primo smartphone dual SIM full active. Gestisce due SIM sempre attive contemporaneamente. Ricevendo una chiamata su una SIM, l'uomo non ha perso quella in corso sull'altra. Un oggetto altamente tecnologico, dotato di sistema operativo Android, sistema di scrittura intelligente XT9, Wi-Fi e sensore di movimento. NGM è leader della tecnologia dual SIM che disegna e progetta interamente i suoi telefoni in Italia.